La commemorazione dei difunti ha questo doppio senso, un senso di tristezza, un cimitero e triste, ci ricorda i nostri che si sono andati, ci ricorda anche il futuro, la morte, ma in questa tristezza noi portiamo dei fiori, come un segno di speranza, anche, posso dire, di festa, ma più avanti, non adesso. E la tristezza si mischia con la speranza e questo è che tutti noi sentiamo oggi in questa celebrazione, la memoria dei nostri davanti alle spoglie di loro e la speranza. Le parole di Papa Francesco durante l'omelia della Messa celebrata nel cimitero di Prima Porta sono risuonate come un balsamo per quanti hanno perso un caro, un dolore che accomuna tutti gli individui, ma che in Gesù trova una ferma ancora di speranza. Ed è proprio a questa certezza che il Pontefice ha richiamato l'attenzione dei fedeli, un fiore che ci sprona a guardare al futuro con fiducia. Al termine della celebrazione alla periferia nord di Roma, subito dopo il rientro in Vaticano, Papa Bergoglio si è arrecato nelle grotte della Basilica di San Pietro per un momento di preghiera in privato, in suffraggio dei sommi pontefici, i vissepolti e di tutti i defunti.